Musica Ragazzi 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 benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video State già vedendo una situazione un po' diversa da quella che siete un attimino abituati a vedere Perché lo sfondo alle mie spalle è totalmente cambiato E fatemi sapere intanto in questo video visto che sarà una chiacchiera Visto che vi racconterò e vi annuncerò una cosa molto importante Fatemi sapere che ne pensate di questo sfondo Spoiler dovrò ancora cambiare perché qui aggiungerò un mobile Qua probabilmente aggiungerò un divano E quindi ancora è tutto un work in progress Se siete curiosi di sapere che cazzo è successo all'interno del mio studio E perché è cambiato più o meno tutto Andate a guardare il video che uscirà domani ovviamente Nulla di troppo strano ma scoprirete tutto appunto nel video di domani Oggi ragazzi sono qui per darvi un annuncio Penso all'annuncio che forse tutti stavano aspettando su questo canale L'avevo già annunciato su Instagram e la storia è stata visualizzata da un botto di persone E ho avuto i direct super intasati perché effettivamente era un qualcosa che molti si aspettavano Ovvero ritorno su Twitch ragazzi Questo lunedì ovvero oggi 29 all'ora e 22 stasera Andrò in live su Twitch e farò non lo so adesso vediamo Capiamo insieme non lo so capiremo poi cosa faremo Però rinizio effettivamente su Twitch e l'annuncio è questo ragazzi Che rinizio a streammare su Twitch Dopo un anno e mezzo forse quasi due di stop Ricomincio sulla piattaforma viola E adesso devo iniziare un attimino a darvi un po' delle specifiche Perché rinizio su Twitch ma non come lo facevo un tempo Ho dosato un attimino le varie cose Perché come lo facevo in quel modo era insostenibile Io sono del parere che devi fare una cosa fatta bene Non devi fare due fatte male Quindi io vi concentrerò sempre su YouTube Su YouTube continuerò ad uscire un video al giorno Però nel frattempo farò anche Twitch Adesso l'aiuto del montatore Prima non l'avevo quindi comunque la programmazione non varierà Visto che comunque i video non li monto più io E quindi ogni tanto che del tempo libero alla sera Ho detto lo dedico a Twitch Si può fare Ricominciamo Ma partiamo un attimino dagli albori ragazzi Ma perché ho deciso di smettere effettivamente con Twitch? Perché non l'ho mai detto Cioè io di punta in bianco Un giorno ho preso e non ho streamato più Cioè raga una merda Avevo più di mille sub E ho lasciato tutti a fan Senza appunto contenuti Per un anno e mezzo Quasi due Adesso non mi ricordo da quant'è che non streamo Allora perché ho staccato su Twitch ragazzi? Perché io avevo preso una pausa estiva Di circa un mesetto Se non sbaglio Stiamo parlando dell'agosto del 2021 Se non sbaglio E quindi ho detto Vabbè in estate non streamo Perché giustamente non c'è nessuno E mi voglio godere un attimino le sere d'estate Mi piace uscire Blablabla Perché io appunto streamando alle 22 di sera Ero obbligato tra virgolette a streamare Quindi se magari un amico mi proponeva di uscire alla sera A bere qualcosa Era estate Io stavo sempre lì a dire No 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 e no Dopo arrivato a un certo punto Mi sono rotto le scatole Ho detto Basta per tutto agosto non streamo più Mi ero preso questo mese Così di pausa insomma Poi sono ritornato a settembre Non stavo andando male Né in termini di views Né in termini di sub Né in termini di spettatori In niente Twitch mi è sempre andato una bomba Ora mi tocco le palle Porca putt Però notavo che mentre in live Sempre durante quel periodo Sentivo che stavo trascurando Troppo quello che era la mia attività principale Perché le views su YouTube In quel periodo sono iniziate a scendere E ho detto Ok Devo capire che cosa devo fare E come agire per tamponare questa cosa E fare di meglio Quindi cosa ho deciso di fare Avevo deciso di staccare totalmente Con le live Ancora all'epoca se non sbaglio Non avevo il montatore E concentrarmi full time su YouTube Che è quello che farò E che faccio tuttora E che ho fatto fino adesso Da 15 anni Da questa parte della mia vita Perché YouTube lo faccio da quasi 15 anni Quindi ho staccato Twitch Perché appunto volevo dare continuità E volevo riprendere su YouTube Vi ricordo che per Twitch Io non facevo più un video al giorno su YouTube Ma ne facevo uno un giorno sì E un giorno no Uscivano tipo tre video a settimana Quando andava bene E quella cosa non andava bene per niente Lato lavoro mio personale Lato anche lato branding Che aziende con cui lavoro Giustamente Vedevano che il canale era impicchiato E dicevano Ma che cazzo stai a fa? E giustamente Ho dovuto ritirare un attimino Sulle sorti Sono contento della scelta che ho fatto Perché sono ritornato a fare video su YouTube Ho fatto dei format interessanti Stanno iniziando adesso a settembre Inizierà il Retrotech La serie incredibile Che ho fatto già una puntata Inizieranno tantissime cose a settembre Quindi lato YouTube Adesso abbiamo una bella schedule serrata Un bel progettino Da qui al prossimo anno C'ho anche il montatore ovviamente Che mi aiuta E quindi ho deciso Ok ritorniamo su Twitch Proviamoci Riproviamoci Ora quindi chiedo ufficialmente scusa A tutti quei sub Che avevano la sub nel mio canale Durante il periodo in cui è abbandonato E che giustamente Non si sono più visti Il suo streamer preferito Più o meno Creare contenuti Giustamente Perché anche io mi incazzerei Se qualcuno paga E poi non riceve un cazzo in cambio Quindi chiedo scusa A tutti i miei 1100 sub Che avevo all'epoca Non mi ricordo Che avevano creduto in me E l'ho mandato altamente A cagare Ma sono ritornato E adesso vi dirò In che modo E in che modalità Si svolgerà La nuova schedule di Twitch La di YouTube Non cambierà niente Voglio che questa cosa sia chiara Raga Tutto uguale rimane Tutto uguale Anzi Potranno esserci dei contenuti in più Perché magari posso prendere Degli ispezioni live E ricaricarli Se in live succede un qualcosa Di super divertente Lo posso caricare ad esempio Su TikTok Quindi potranno esserci contenuti Un po' più vari Sotto un certo punto di vista Sapete quanto io mi diverto in live E sapete quanto esca al naturale Durante le live Senza filtri Totalmente Quindi secondo me È molto interessante Come farò le live? Allora ragazzi Intanto vi devo dire questa cosa Che intanto streamerò Sia il 29 Che il 30 Che il 31 Quindi streamerò fino a mercoledì Poi l'1 Parto Che vado a Berlino Vado all'IFA di Berlino Grazie a Dio finalmente E ritornerò il 4 settembre Quindi dall'1 al 4 Quindi da giovedì a domenica Non ci sarò Però domenica 4 Streamerò di sera Insieme a Mike Shosh Streameremo una cosa Molto figa Su Playstation Bellissima ragazzi Abbiamo organizzato una serata top Con Michelangelo Spettacolo Quindi praticamente lo streamerò 1, 2, 3 Non streamerò E poi il 4 Ritornano in live Dalla settimana in cui Praticamente non parto Quindi dal 5 in poi E da per sempre in poi In realtà Il mio obiettivo è quello Di fare minimo 3 live A settimana Se poi ne esce qualcuno in più Bene Però l'obiettivo minimo È di farne 3 a settimana E non più una ogni sera Poi sapete che su Twitch Si crea un rapporto Con chi scrive in chat Davvero molto speciale Quindi Partiamo dal giorno 5 Banalmente Quindi io direi di streamare 3 volte a settimana Che sia Il lunedì Il mercoledì E il venerdì Sabato e domenica Me lo piglio libero Però ragazzi Può capitare Che magari Sono a casa Una sera Ad esempio un martedì Sono a casa Ho già streamato il lunedì Sono a casa E dico Ma guarda Non c'è un calafare Quindi io attacco la live Tranquillamente Ecco perché vi consiglio Di passare sul canale Viola E attivare la campanellina Così vi arrivano le notifiche Quindi progetto Twitch futuro È sicuramente fare Minimo 3 live a settimana Quindi lunedì Mercoledì E venerdì E poi Qualcuna extra Gliela mettiamo Ma cosa farò In queste live Non cambieranno Tantissimi contenuti Che facevo all'epoca Perché quello che facevo Su Twitch mi piaceva Su Twitch portavo Proprio quello che mi piaceva Quello che magari Su YouTube non posso fare Perché su YouTube Gli portano un attimino I contenuti di punti I contenuti che vanno I contenuti un po' più virali Mentre su Twitch Ero proprio spontaneo Al 100% E portavo proprio Quello che mi piaceva A me come Pietro Non come Giampite Ma proprio come Pietro Come Giampiero Mi piaceva portare Determinate cose Tra cui Minecraft Ragazzi io amo Minecraft Sapete Il mio amore per Minecraft Porterò Minecraft Una vanilla sicuramente Magari inizieremo Un hardcore di nuovo Con Franz e Nova Vedremo ragazzi Sicuramente Minecraft Sarà il fulcro Comunque delle mie live Perché mi piace un botte Ragazzi mi diverte Mi rilassa giocarlo Minecraft è pazzesco Ragazzi Minecraft è bellissimo Quindi una volta O più volte a settimana Faremo Minecraft Poi un giorno Sicuramente Lo vorrei dedicare A delle reaction Quindi mettermi lì Al computer Mettermi lì Magari una o due rette E guardare i video Che sono usciti Degli youtuber Durante la settimana Banalmente questo contenuto Lo potremmo fare il venerdì Ogni venerdì Potremmo fare le reaction In questo modo Guardiamo tutti i video Che sono usciti Durante la settimana E ci andiamo a fare Una bella scorpacciata Di reaction Di video O di ad esempio Programmi tv Mi ricordo quando Facevamo la reaction Di rimozione forzata Ragazzi proprio Livelli altissimi Del live Eravamo Quindi potremmo fare Qualche reaction O qualche programma tv Che ci piace Poi andiamo a scovarlo E vediamo cosa possiamo fare E poi Sicuramente Un'altra cosa che voglio fare Che mi piaceva E che vi piaceva Soprattutto un botto Quando facevo le live Erano i World True Ragazzi Ora io non sarò McShosh Ovviamente non faccio I momenti didattici Del mio cazzo Ma comunque Durante i World True Mi divertivo un fottio E ultimamente Stanno iniziando a uscire Dei giochi un po' più Succosi Onestamente Tipo Saints Row Che ho fatto il video L'altra volta Lo possiamo continuare Tranquillamente in live Magari i World True Li faccio il mercoledì Così pazzo Usciranno da qui a settembre Un sacco di giochi interessanti Uscirà anche Hogwarts Legacy Mamma mia ragazzi Non vedo mai È stato rimandato di nuovo Pezzi di me Però uscirà a febbraio Se non sbaglio Quindi a febbraio Ragazzi Lì a nerdare Ad Hogwarts Legacy Come non mai E poi possiamo giocare Veramente a qualsiasi cosa Insieme agli altri A GTA Potranno ritornare le gare Con GTA Insieme a Stormy E tutta la combriccola Un sacco Un sacco di cose Che sono sincero Mi manca Ora si muove una cazzata Ragazzi Non streamando Ho perso anche il rapporto Magari che avevo prima Con Nova Visto che lo sentivo ogni sera Ho perso anche il rapporto Che avevo anche un po' con franzo Perché ci sentivamo spessissimo Anche quando chiudevamo le live Ragazzi Restavamo su Discord A chiacchierare Per ore e minuti E a raccontarci un po' Quello che ci è successo Durante la giornata Quindi era anche un momento bello Ressamente da quando non streamo più Ho perso tutti questi momenti Questi bei momenti Con le persone che erano Attorno a Twitch Attorno a quel mondo Della piattaforma viola Quindi sicuramente Ritornare Secondo me sarà un Diciamo un rinasce Ragazzi Ricomincio da zero Questo video si chiamerà appunto Ricomincio da zero Perché effettivamente da 1500 sub 1100 Quelle che erano sub Che avevo Ritorno a zero Tutto resettato Tra l'altro Piccolo spoiler Sul canale Twitch Ho fatto una pulizia totale Siccome secondo me Questo deve essere un nuovo punto di inizio Quindi un punto di partenza Un ricomincio da zero Appunto Ho sbannato tutti gli utenti Che avevo bannato in passato Ho tolto tutti i VIP Quindi è come se io non avessi Mai streamato su quella piattaforma E dovrò ricominciare tutto da capo Quindi ragazzi Se volete venirmi a supportare su Twitch Io sono lì Tre volte a settimana Alle 22 Se ci siete bene Se non ci siete Va bene lo stesso Quindi da questa sera Alle ore 22 Si ritorna su Twitch Spero di riuscire a mantenere queste promesse Di essere costante Nel fare le live Ma ho preparato tutto Ragazzi Ho cambiato anche lo studio Anche per questo E quindi Sono veramente gasato E non vedo l'ora di ricominciare Cosa faremo stasera? Non lo so Secondo me Ci sta che ci buttiamo a bomba Su un bel mondo di Minecraft Ragazzi Visto che Minecraft è cambiato un sacco Potremmo fare quello Però sicuramente Prima di iniziare a fare Quello che facevamo anche un tempo Ci sta a fare un po' di cacciara Diciamo fare Un po' di conoscenze In un chat Ma c'è qualche nuovo tent Vediamo Chiacchieremo un po' Chiacchieremo un po' Prima poi di fiondarci Sul mondo A cubetti O qualcos'altro Quindi Vi aspetto stasera Alle ore 22 In live Spero ci siate Fatemelo sapere Qua sotto nei commenti Io vi aspetto Sono lì Domani vedete il video Di tutto questo casino Che ho fatto E poi preparatevi Perché a settembre Uscirà la serie Retrotech Che la stiamo preparando A puntino E un'altra serie Non so se uscirà Dove faremo le cose in grande Grandissime Big E Big È uno spoiler della serie O del nome Ciao Ciao